Modalità parco giochi, nuova follia Allora, questo oggi vogliamo dividere la mappa a metà Esatto, sì E poi farci una gara con il carrello Esatto, sì, sarà il tour de Fortnite Ok, invece che con le pizze abbiamo i carrelli E attraverseremo tutta la mappa di Fortnite Esatto, ok, ti piace? Sì Praticamente partiamo da qua Facciamo tutto così di piattaforma di legno Una linea, proprio linea sottile, sottile di legno Arriviamo fino alla parte opposta E poi prendiamo i carrelli Durerà due ore questo video Yeah Assolutamente sì Quindi Steph, legna, vai, corri Beh sì, quello mi sembra abbastanza scontato Allora, tu fai questo alberi sinistra C'è questo qua in alto Non abbiamo scelto un punto che ha tanta legna Per iniziare, però dovevamo scegliere un punto Abbastanza corretto, abbastanza al centro E quindi io Quindi un certo tanto non ne puoi prendere Quindi ci toccherà scendere, risalire, ricontinuare Esatto, esatto Ho messo il segno rosso lì per non perdere il punto da cui partire Ma tu lo vedi il segno rosso mio? Sì Ok, perfetto Non vedo dove sei tu, ma vedo i tuoi segni Ok, ottimo Allora, direi che si può partire Ok, io ci sono già Direi che si può partire Quindi partirei così E andrei di così Ok Perfetto Però aspetta, alzalo un po' Sei troppo sottoterra Non ti piace? Eh no, così no Ma bene Cioè, ok che poi ci dovremmo alzare Così Ma ora che andiamo Sì Ok, va bene Allora, io spero più che altro di arrivare fino a dove ci sono altri alberi In modo da non stare più in un posto dove non ce ne sono Ma sembra di sì Perché comunque ne abbiamo già 500 a testa Ah, tu sei 999? Sì Con un solo albero? No, l'ho fatto altri due piccolini Ok, ottimo Ho fatto due piccolini e sono a posto Quanto durerà questo video, secondo te? Non lo so Cioè, io sinceramente non so a livello di minuti Stali un po' Ok, vai Non so a livello di minuti quanto ci voglia percorrere tutta la mappa Cioè, è grande E comunque forse la piedi, secondo me, è tanto Non lo so, Steph Staremo a vedere Sarà divertente, però Lo so Sono quegli esperimenti che solo noi facciamo, secondo me, in giro Ma chi è che ha voglia di dividere una mappa a metà Ok, divertiti Non è neanche il centro perfetto Questo se vogliamo essere pigliari Ma avevamo la città in mezzo alle scathe Vuoi litigare, per Ok, io vado, Steph Vai Ciao, ti abbandono Stai continuando la mia riga, sì Eh sì, però aspetta, come facciamo? Ti lascio indietro No, no, tranquilla, perché adesso tu devi andare verso il basso Appena arrivi qua nella montagna Fai le scale verso il basso e torni un po' più piatta Non lo voglio fare che è sospesa Ah, sono caduta Mi hai distratto, stai zitto Ma che problemi hai? Tu hai problemi Stavo guardando perché non capivo Cioè, secondo me non lo so se è il caso Aspetta, faccio io allora No, guarda, vado verso il basso Eh, esatto Così Ok, e adesso di nuovo piatto Ok, e poi riandiamo Esatto Per un po', così, no? Esatto, poi di nuovo uno verso il basso Anzi, non farlo Fallo tu Ah Mi hai rotto le scatole Perché adesso c'è la forestina così Altrimenti dovevi riandare poi verso l'alto Ed è troppo rotto le scatole Eh, è quello che stavo pensando Ho detto, ma conviene Devi riandare solo questi alberi, eh Perché altrimenti mentre facciamo la gara Sbattiamo sui tronchi Può essere un problema Quindi vieni a darmi una mano qua Ok Aspetta, Steph Visto che tu sei più avanti Ti do tutta la mia legna Ma no, Ferre Sono a 999 Di nuovo anche tu Eh, perché anche io sono sprecata Eh, ma la sprechiamo per forza Ma siamo tranquilli Finché ci sono alberi in giro per la mappa Ferre, ne bastano davvero due Quindi, easy Quello non è un problema Ok Ok, questo qua è l'ultimo albero Poi dovremmo poter andare tranquillamente dritti Perfetto Andare io? No Dai, fammi costruire Vai Grazie Guardate un po' Eh, non si Così non si capisce Allora, siamo arrivati all'Ande Quindi non è che siamo messi benissimo, Steph Oh, cavolo Quanto è? Un decimo della mappa? Eh, sì Allora, inizio ad accendere l'aria condizionata Così almeno non abbiamo caldo E non ci viene il nervoso Ma dai, il nervoso no Perché ho avuto questa idea Aspetta, qua devo distruggere gli alberi Che se no mi danno noia Assolutamente sì Assolutamente sì E tu che stai pensando a non sprecare la legna Anche quello prima ci darà fastidio oppure no? Mh, per la pista no Va tutto bene, va tutto bene Anche questo si può lasciare, no? Guarda Eh, non lo so Dai, passiamo in mezzo agli alberi È scenografico No, 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 dai lo spacco Lo spacco Tu inizi ad andare avanti Mi blocca Aspetta, mi blocca Ecco qua Opla, ok Questo ci penso io Tu vai avanti Io distruggo gli alberi Siamo una squadra fantastica Ok Assolutamente sì Qua devi andare leggermente verso l'alto Eh, aspetta che ho la scala girata Eccola qui Ok Un altro forse? Mh, sì Sì, sì Assolutamente Ok, vai Andava proprio filo filo a terra E non andava bene Perfetto Ci stiamo avvicinando a Dusty Divut Quindi al cratere E quindi inizia ad essere un buon punto Allora direi che facciamo un taglio adesso Vi facciamo vedere quando siamo circa a metà barra tre quarti Perché poi tanto ragazzi Dobbiamo fare anche tutto il pezzo Dove iniziamo ad andare in giro col carrello Quindi c'è tantissimo materiale a farvi vedere E di conseguenza non vi possiamo fare vedere Tutta la costruzione che altrimenti il video dura tipo 45 minuti Che è quello che dovremmo sopportarci noi qua A caldo Cioè voglio andare al mare Andiamo al mare Non ti piace andare al mare? Lo so Quindi non dire festeglie Però caldo E quindi vorrei stare in una piscina Una piscina privata Me la compri? Sì Davvero? Sì Ma in un videogioco? L'abbiamo già comprata È quella gonfiabile Quella che abbiamo fatto vedere su StephFR Quella è il massimo che ti posso fare Prima di tutto siamo in casa Seconda cosa Non ci sto neanche Manco a dire Però qua voglio scendere un pochettino Siamo troppo in alto rispetto al livello Oh yeah Vabbè Oh yeah Ci vediamo dopo Siamo a Tomato Town Quindi più di tre quarti all'incirca Non manca troppo Continuiamo Ci siamo quasi Allora non so quanto si vede da qui raga Però c'è tutta la pista È fantastico Poi sai che facciamo? Ops Dimmi Sì Vai No no racconta racconta Così nessuno ha notato l'errore Che ti faccio fuori Così poi tu torni dall'alto E la vedi bene Ok però E la vediamo proprio in alto Non dovresti essere così felice Ogni volta di dire queste cose Vabbè lo farei io Steph Ma si vede il tuo gameplay Eh certo 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 Che sfiga Vero? Eh già Eh siamo quasi arrivati Ormai siamo praticamente arrivati ad Acry E ci siamo Lo so Ci manca l'ultimo pezzo Lo so Lo so Lo abbiamo cercato di tenere sempre il più basso possibile A parte Dusty Livot Che passiamo proprio sopra il capere No ovviamente Che è scenografico pure secondo me Però abbiamo sempre cercato di tenere questo livello Non so bene perché Ma secondo me ci sta È carino E che cosa facciamo Sfondiamo il ponte E passiamo in mezzo Eh si Sembra un trenino Che attraversa la città Esatto E adesso poi noi Sai cosa facciamo Perché così questo video Ha una doppia utilità Facciamo il cronometro Per far sapere Quanto ci vuole A percorrere tutta la mappa Con un carrello Con un carrello Che comunque Qua lasciamo così il ponte Steph Non lo tappo Sono indeciso Tu che dici? Vero? Sì Leviamo solo questa qua Così qua facciamo La nostra struttura Sì ci sta meglio Ci sta meglio Ok ok Vai 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 Così diciamo che non distrugge L'ambientazione della nostra pista Ok così passiamo anche in mezzo Come se fosse una cosa turistica Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Allora io fra poco Mi sa che posso anche andare ad ammazzarmi Anzi Finisci tu Io vado ad uccidermi Ok ciao Come mi posso ammazzare Buttati dal Non lo so Ti cominciamo a venire con me Ti buttavi in mare Beh sì Non era male come idea Ma Ce la faccio Stai tranquilla Dove possiamo andare a prendere due carrelli Atomato Ah no va bene Basta uno Atomato devi averlo Ok Sì vai a prenderlo Figata Oh falso effetto Dai È figo Sì falso effetto Ma una roba abbastanza semplice Ma che falso effetto Molto finita Allora qui secondo me però Dobbiamo fare un ingresso per il carrello Perlomeno qua Ok Perché se no lì rischiamo di cadere nel burrone Ed è finita Ok Va bene va bene va bene Ciao anche qua Allora Il carrellino dove sta Io preparo anche poi il cronometro Così vediamo quanto ci vuole Assolutamente sì Eccolo Trovato 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 Arrivo cara mia Quanto ci vorrà secondo te Facciamo una scommessa Ma questo vero è bello Noi abbiamo iniziato Circa a 53 minuti Quindi in 10 minuti Abbiamo fatto tutta la struttura Il carrello teoricamente Va un po' più veloce che a piedi Forse un Non dobbiamo buildare 6 minuti 6 minuti per fare il giro della mappa Sì Per tagliare Per correre Ok 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 Va bene Vediamo Il carrello è un po' più veloce Cioè in certi punti prenderemo velocità Quindi siamo più veloci Di quando corriamo normalmente Quindi è da valutare anche questo Vediamo Vediamo Anche secondo me Ok sto arrivando Ci siamo a fare Vai Avvio il cronometro Vai avvia tutto 3 2 1 Via Ok Ok Partenza E vabbè ok Dovevo avviare il cronometro Ma qua passiamo in mezzo Faresi sicura? Ok Molto scenografico Era caruccio Oh yes Ci siamo Inizia Inizia il nostro percorso infinito Con il carrello Vai ste pedala Con quelle gambine È faticosissimo È faticosissimo Lo so che è faticoso Anche perché poi devo spammare spazio Vabbè È faticoso anche nella vita reale Non solo a percorrere Beh direi 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 Ogni volta che c'è salita Devo andare solo in shift Perché va più veloce così Vuoi sapere quanto siamo? 30 secondi Eh vabbè Ok Ogni volta che ci sarà una discesa Però andremo velocissimi Ok Esatto Devi contare quello Le salite un po' ci rallenteranno Beh non così tanto però Vedi Ah no infatti Infatti dai Ok adesso di nuovo di spazio È tutto salita sto parlando Vediamo Guarda dopo cosa c'è Oh cavolo Oh cavolo Lì perderemo un po' di tempo Questo lo devo schivare vero? Eh non credo Ci passiamo Vai Uh Non è andata un gran che Pochissimo Davvero pochissimo Speravo ci stessa almeno un po' di velocità Almeno un attimino di velocità Ok Ah fe ne pesi tantissimo Non sono io stefa è la salita Mi fa andare più lento Ok vai Ok Qua devo stare attento Ok Ok Ho un pezzo veloce Ok vai Ma perché i pezzi veloci ogni volta sono una fregatura? Non lo so Non c'è mai La rampa ci dovrebbe dare un po' di velocità Guarda Ma no C'è una fesseria Perché sono sempre troppo poco E quindi vai solo a sbattere Certo Dannazione Però siamo Scusami guarda la mappa Non siamo quasi a metà? Siamo quasi a magazzino Quindi sì Fare ti sei sbagliata di grosso Al momento siamo a un minuto e quaranta Vabbè tu corri Più veloce che si può Eh lo so Lo sto già facendo Però cavolo Nel caso si può fare il giro della mappa velocissimi Assolutamente sì Il taglio Perché il giro sarebbe fare tutto Oh no Quello non lo facciamo raga Anche se ce lo chiedete Non lo facciamo Farbbe bello Provare tutto il giro Sai quanto è fatico Nel mare Spettacolo Fare tutto il percorso Bello Bello Quello bisognerebbe organizzarsi in quattro Ognuno fa una parte del cerchio Fa una parte esatto E lo si fa Carino 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 Poi vediamo Allora due minuti e dieci siamo a metà Quindi all'incirca potrebbe Siamo a magazzino Potrebbe essere una cosa come quattro minuti e trenta Cioè io pensavo di avere anche esagerato a dire sei Cioè pensavo sarebbe stato molto più lento Però devi anche contare Steph Che in effetti Stando su piattaforma dritta È molto più facile percorrere la mappa Perché non devi fare montagne Esatto Non devi fare dislivelli E infatti noi abbiamo creato una rete ferroviaria Per carrelli Certo Abbiamo creato la monorotaia di Fortnite Esatto Corre tutta la mappa Esatto Ok dimmi che c'è una bella discesa qua Almeno una volta Almeno una volta Dai un po' di velocità Oh dai Abbiamo preso l'albero Sì e ci stavamo per far pure cadere Noi abbiamo tolto quell'albero Quindi stavamo per perdere del tempo Esatto Prezioso Ok continuiamo così Forza fare forza fare forza fare Tre minuti Dimmi nella mappa come siamo Siamo quasi all'Ande Siamo a tre quarti Di fronte a noi Siamo a tre quarti Ce la facciamo in quattro minuti Ah Discesa pure Oh yes Ora si che si è corso un bel po' Ottimo Ottimo Ragazzi ce la facciamo Forse in quattro minuti ce la facciamo Ce la facciamo eh Ce la facciamo Dai Io mi sto distruggendo una mano E ci credo Però è divertente Ma male che non ho guidato io Guarda per me è strarrilassante Mi sto guardando tutto Tutto il paesaggio Tutto il panorama Sì tranquillissima E' felice Questo sarà bello da fare Quando cambiano la mappa Con tutti i cambiamenti della season 5 E allora ti fai tutto il giro Ti immagini se questo video esce Quando ci sono già i change E quindi si vede la mappa vecchia Allora cerca di non farlo uscire No sarà un tour per ricordare Ah per ricordare I vecchi tempi E sarà fatta apposta Capito Non sarà mica perché Smettila Anche io qua sto faticando Mi fa male la mano Forse con questa discesa finiamo Ok Vediamo Pronta Sì abbiamo finito Sì Abbiamo finito Sì Wuhuuu Non farci cadere di sotto però Steph Pronta Sì Wuhuuu Che delusione Abbastanza Che delusione Ci siamo Steph 4 minuti e 13 4 e 15 Vediamo il momento perfetto In cui finiamo Comunque meno di 4 e 30 Ok Ok Ferma 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 Che se no cadiamo in mare 4 e 23 E ce ne andiamo in mare per finire Basta 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 Avevo detto di non farci cadere in mare Quindi Precisamente 4 minuti e 25 secondi Ottimo Ci vuole pochissimo Sì ci vuole pochissimo Ci vuole pochissimo Ci vuole pochissimo Ricordatela dall'alto Che spettacolo bellissimo Bellissimo Che spettacolo È stato figo Ok raga Follia finita È stato davvero bello Proponetecile come sempre Aldri nei commenti Qua sotto Complicando altri video di Fortnite Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 c'è Ciao c'è